Eccoci qua amici buona domenica e buonasera come state? Mi auguro che questa domenica per voi sia stata piacevole sia andato tutto come lo desiderate per il verso giusto e che tutto continui anche per la per la fine della serata. Non ho resistito a fare questa diretta perché come al solito abbiamo assistito alla diretta di Giuseppe Conte che ha chiuso in grande stile gli stati generali dell'economia da Villa Panfili con questo leggio diciamo trasparente con la villa alle spalle in pompa magna e sembrava veramente il re sole nel massimo della sua follia nel suo delirio di onnipotenza. Intanto saluto chi arriva saluto Liliana, Giovanna che mi saluta da Palermo, Francesco, Rossella, Nina e Maria e non so se l'avete visto saluto anche Gaetano che ha appena scritto, Antonio poi ne abbiamo qualcun altro che comincia a entrare. Vi saluto tutti in generale un saluto in generale chi è arrivato per primo sono felice che l'ho potuto salutare nominandolo. Abbiamo assistito a quest'ennesima farsa, un'ennesima farsa fatta da Conte e ovviamente ben orchestrata da Casalino che ha pensato bene di, come dicevo prima, di orchestrare tutto questo per accrescere la popolarità del nostro premier. Alla fine della fiera, alla fine di questi stati generali che cosa abbiamo prodotto? Zero. Faremo, diremo, stiamo pensando e vedremo al solito nulla. Nulla. Giuseppe Conte è un professionista nel parlare e non dire nulla. Cazzate su cazzate ragazzi. Cazzate su cazzate. Mi dispiace veramente dirlo perché purtroppo è il nostro presidente del Consiglio ma non ha né la forza, né il carisma, né il buonsenso di dire la verità. Guardate che fino a settembre la situazione reggerà ma non appena saranno sbloccati i licenziamenti in questo paese purtroppo avremo sulla strada milioni di disoccupati e lì scatterà la rivoluzione e lì il popolo inizierà a ribellarsi perché è inammissibile che in un paese come il nostro non ci siano delle soluzioni e non si sia ancora pensato a come ripartire realmente dopo questa pandemia, dopo questa crisi economica che sarà devastante, devastante. I dati ci dicono che sarà peggio di quella avuta nel 2008 con la crisi dei mercati americani. Quindi badate bene che il problema non è solo nostro, il problema è generale e dobbiamo lavorare seriamente per dare un'alternativa a questo paese. Questo governo, Giuseppe Conte, i ministri devono andare a casa perché l'economia non ripartirà mai da sola e se aspettiamo i tempi di Bruxelles, se aspettiamo i tempi biblici dell'Unione Europea dove prevale assolutamente l'egoismo dei paesi del nord, della Svezia, dell'Olanda, dell'Austria che non vogliono assolutamente fare che all'Italia e ai paesi in crisi arrivino dei fondi e che siano ovviamente non dei prestiti ma dei finanziamenti a fondo perduto. Ebbene noi arriveremo veramente alla fame, noi arriveremo in una situazione come la vissero i nostri nonni dopo la seconda guerra mondiale, lo dico con il cuore, lo dico da persona che sta crescendo perché non ho neppure 30 anni, è drammatica, è drammatica e siamo governati da una banda di imbecilli, da una banda di deficienti e dico deficienti perché hanno una deficienza nel modo di affrontare le cose, nel creare gli eventi, hanno pensato solo e soltanto a una scenografia, a creare una scenetta dal punto di vista mediatico ma poi le soluzioni non arrivano e il popolo di questo se ne deve rendere conto, ogni giorno nascono nuovi movimenti, la protesta aumenta e il disagio sociale non si ferma ed è questa la mia grande paura. Al contempo però basti vedere cosa sta succedendo nella mia Sicilia dove il ministro Lamorgese ha già dato il via libera allo sbarco di nuovi migranti. La Sea-Watch, la Itamari, tutte le ONG stanno lavorando a pieno ritmo, basta, questo non lo dico io o la tv che potete benissimo ascoltare, basta scaricare un'app per il tracciamento navale, sono disponibili sia su Apple Store sia su Google Play, basta cercare tracciamento navale, scaricate l'app e vedrete che davanti alle coste libiche ci sono dalle due alle tre navi delle ONG ferme proprio al ridosso delle acque libiche e delle coste libiche e secondo voi quelli fermi lì che cosa fanno? Aspettano, aspettano che gli scafisti mandino i barconi in mare per poi prenderli e portarli direttamente in Italia, è un film già visto, è una storia che si riprende e il governo invece di bloccare gli sbarchi, invece di bloccare il traffico di esseri umani continua a permettere a questa gente di portare in Italia ancora clandestini, ancora persone e poi domani li regolarizzeremo con una nuova sanatoria magari e poi domani ascolteremo le sardine e gli diremo lo ius soli e gli diremo lo ius culture e daremo sempre più spazio allo straniero mentre lo spazio dell'italiano si riduce, si riduce, si riduce e al massimo Conte dice di voler pensare di un piccolo ritocco all'iva. L'Italia non ha bisogno di un piccolo ritocco all'iva o meglio abbiamo bisogno di un grande ritocco all'iva e di un grande ritocco delle tasse. L'Italia in questo momento ha bisogno del suo tessuto economico che deve ripartire, che deve rigenerarsi, che deve rinascere. Non possiamo pensare alla green economy come dice lui, come se si mangiasse solo di green economy, no l'Italia non è pronta. Non possiamo pensare a dei piani che non investono sulle infrastrutture, che non permettono di sbloccare i cantieri, che non permettono alla gente di andare avanti. Dobbiamo essere coerenti, dobbiamo essere concreti, dobbiamo cercare in ogni modo di salvare la nostra economia e di salvare quanti più posti di lavoro possibili e poi subito dopo pensare a crearli, non posti statali, che sono quelli per i quali si è vissuto per tantissimi anni, male dico io, male, ma a dare le condizioni alle imprese, agli imprenditori, a chiunque ha una buona volontà di poter lavorare e di poter mettere in regola le persone per creare posti di lavoro. Se il governo, se Conte non capisce questo, noi saremo rovinati, anche perché la classe politica dirigente attuale non andrà a casa, non vogliono andare a casa, non vogliono far cadere il governo, non vogliono nuove elezioni, perché sanno che perderanno e prenderanno una grande sventola a livello elettorale. Da ormai un mese e mezzo la popolarità del governo è a picco, la popolarità di Conte è a picco e giustamente la Lega torna a salire, perché la gente vuole delle risposte, vuole tornare in strada, vuole essere coinvolta nella vita politica del paese, che non si fa a Villa Panfili, che non si fa tra gli chef stellati, tra le star, tra gli architetti e tra le fondazioni varie dei ricconi d'Italia, no, la politica si fa sulla strada e Matteo Salvini è l'unico e il più grande che ci insegna proprio questo, bisogna stare tra la gente, bisogna sentire i bisogni della gente, mai allontanarsi da quello che la gente chiede, mai allontanarsi dai bisogni della gente comune e in questa battaglia non siamo soli, ci sono anche i nostri amici di Fratelli d'Italia, ci sono anche i volenterosi di buona volontà, di Forza Italia, il centro-destra unito è una risorsa, è una speranza per questo paese e per rappresentare una speranza per questo paese bisogna lavorare e bisogna soprattutto far capire agli italiani, agli elettori, quanto questo governo sia una bolla di sapone che può ancora continuare a salire tra virgolette nell'aria perché è sospinta dal vento a favore della pandemia, ma questa bolla di sapone presto scoppierà e scoppierà in una maniera che purtroppo sarà dolorosa per tutti perché milioni di posti di lavoro significa milioni di bocche da sfamare e significano famiglie che non potranno permettersi di pagarsi i bisogni familiari basilari, come riempire il figo, come comprare un gelato al figlio, come vestirsi e sarà drammatico e sarà drammatico, badate vi dico un'altra cosa non per spaventarvi ma per spingervi a un ragionamento più ampio, noi non siamo la Grecia, noi siamo molto molto più grandi rispetto alla Grecia sia come numero di abitanti sia a livello economico, un nostro tracollo, significherebbe il tracollo dell'intera economia europea, quindi quegli stati del nord che continuano con i loro egoismi, con la loro miopia ad essere tra virgolette falchi, a voler a tutti i costi non aiutare l'Italia, stanno facendo semplicemente come i capponi di Renzo che si beccavano tra di loro ma alla fine sono finiti tutti nella pentola e noi finiremo nella pentola se l'egoismo di questa Unione Europea non permetterà ancora all'Italia di rinascere, di ricrescere e di avere ovviamente dei fondi strutturali capaci di darci un volano della crescita, il turismo è fermo, basti vedere la nostra bella isola che purtroppo sta vivendo momenti drammatici, la stagione 2020 penso sarà ricordata come una delle peggiori dal dopoguerra, molti ristoranti, molti ristoratori non stanno aprendo, molti alberghi non stanno aprendo e si sono diciamo già proiettati verso la stagione del 2021 perché temono tantissimo, temono che ovviamente sia in perdita questo lavoro e lo sarà perché non hanno arrivi dall'estero, perché non hanno arrivi dal nord Italia, perché le persone ormai che vogliono uscire, che vogliono godere di un po' di aria fresca, tendono a fare un turismo di prossimità, un turismo diciamo che permette alle persone di spostarsi di qualche chilometro e raggiungere una riviera, una montagna, una vallata, un posto insomma dove stare bene, ma che non gli dà l'opportunità di uscire anche fuori dalla loro regione, questo è preoccupante ed è preoccupante soprattutto per le regioni del sud che del turismo ne hanno fatto vita, ne hanno fatto sostanza, i lavoratori stagionali quest'anno saranno non dico dimezzati forse oltre un terzo, meno di un terzo di lavoratori stagionali perché non ci sarà lavoro per loro, addirittura chi doveva sposarsi, chi doveva fare diciamo degli eventi li ha spostati al 2021 e tutto questo comporterà un grande danno economico e non abbiamo misure che possano ripristinare anche momentaneamente la liquidità di queste imprese, ci sono quei quattro prestiti che sono stati un fallimento, il prestito di 25 mila euro fino a 25 mila euro con cui c'è la garanzia del 100% da parte del governo, è stato un fallimento pensate che su circa, sembra siano stati stanziati 400 miliardi, solo 20 miliardi sono stati utilizzati, 20 miliardi, quindi una cifra piccolissima per cosa? per un finanziamento che doveva essere a tappeto, invece tra banca e burocrazia non ci sono, non ci sono stati, non c'è stato scampo per chi voleva avvicinarsi ad avere un finanziamento che comunque dovrà essere restituito, per non parlare dei 600 euro, non tutti hanno ricevuto i 600 euro, per non parlare delle persone che ancora aspettano la cassa integrazione non hanno visto un euro, per fortuna che ci sono dei buoni datori di lavoro, delle persone che hanno, dipendenti come se fossero dei parenti come se fossero dei figli, che hanno anticipato la CIG e quindi le famiglie, i lavoratori stanno lavorando, stanno mangiando, stanno spendendo, ma dobbiamo pensare che molte persone che non hanno ricevuto la CIG e non hanno neppure ricevuto il reddito di emergenza e non hanno ricevuto neppure il bonus dato ai comuni per la spesa guardate sono in grandissima difficoltà, in grandissima difficoltà quindi facciamosi forza, continuiamo a combattere, non crediamo alle balle di Conte e prendiamo ogni giorno consapevolezza che questo governo prima va a casa e meglio è per l'Italia e meglio è per tutti noi ci siamo, noi della Lega ci siamo, ci siamo in Sicilia, ci siamo in ogni regione siamo pronti alla grande battaglia, alla buona battaglia per salvare l'Italia da questa manica di incompetenti io vi auguro una buona domenica, vi ringrazio perché dai commenti siete stati tantissimi come sempre affettuosistemi e ci vediamo molto presto, sempre qui, sempre unite al nostro Capitano una buona serata